Nell'ambito delle celebrazioni del trentennale delle stragi di Capace e Via d'Amelio a Teramo, nei giardini di Madonna delle Grazie, è stato installato il Monumento Il Sorriso. Omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima tappa di un lungo viaggio che lo porterà a Foggia, Bari e Matera, dove si terrà una cerimonia alla presenza del Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese. All'iniziativa organizzata dal Comune e dal Premio Nazionale Borsellino erano presenti studenti di quattro istituti terramani. Il Premio Nazionale Borsellino ha questa funzione, unire la memoria e il ricordo, che è un dovere il civico, con una speranza, la speranza che quello che è successo non sia il più il d'attualità. I giovani presenti rappresentano il futuro delle idee di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, idee di giustizia, di libertà dell'intera comunità nazionale. Noi quest'anno abbiamo voluto organizzare una serie di iniziative che culmineranno nell'anniversario, nella cerimonia dell'anniversario della strage di Capaci, ma per fare in modo che sia una riflessione, un percorso nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la lotta alla mafia. Oggi è il momento della tappa del viaggio del sorriso, che parte da Teramo, seguirà poi altre città. Questo sorriso meraviglioso, questo sorriso straordinario, che è un sorriso di coraggio, di forza, non di assenza di paura, ma di consapevolezza che solo lottando quotidianamente, con senso del dovere, per la comunità, per la legalità e per la giustizia, si può cambiare questo mondo. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la mafia, il mondo lo hanno cambiato e oggi dobbiamo proseguire nel loro percorso, ricordandoci una cosa e chiudo, che la mafia non appartiene ad una zona del territorio nazionale. La cultura mafiosa è presente ovunque, anche a Teramo, anche vicino a noi, e quindi va combattuta, sempre, ovunque e comunque.